Ciao fragolini e ciao fragoline! Allora, questo è un video un po' diciamo così che volevo avvisarvi specialmente chi fa video su youtube, specialmente i grattevinci ma secondo me non solo i grattevinci ma anche altri video e altre cose però vabbè diciamo che questo video vorrei parlare solo di quello che mi è successo a me sui grattevinci allora per chi mi segue sa che ho fatto un video due tre settimane fa adesso non mi ricordo quando metterò questo video comunque ho fatto un video dove ho messo un titolo falso dove io ho scritto ho vinto 10.000 euro questo è il video che riguarda e che voglio parlare è successa una cosa un po' anche grave sinceramente perché io ho fatto questo video ho scritto un video falso che però ho vinto lo stesso perché avevo vinto 10 euro ma il titolo era falso per cui di quello che sto parlando adesso è di questo video dei grattevinci dove il titolo dei 10.000 euro era completamente falso vi dico questo e vi dico cosa mi è successo allora io ho ricevuto un casino di commenti che tutti i commenti che sto ancora ricevendo finora perché sto ancora ricevendo molti commenti tutti i commenti che ho ricevuto sono tutti in revisione per cui vuol dire che io devo scegliere se vanno pubblicati o tantomeno cancellati sul canale per cui le persone che hanno visto il video non sanno dei commenti so solo io e le ho letti tutti io ho ricevuto tantissimi commenti sia falsi che ovviamente anche parolacce c'è di tutto di più mi hanno dato dalla falsa vabbè tutte queste cose qua no però vabbè su questi commenti su altre cose che poi vi farò un video parte dove vi farò leggere tutti i commenti ricevuti che possono essere anche da denuncia per cui vi avviso già che tutti i commenti che sto ricevendo e che ho ricevuto possono essere tutti da denuncia perché tu non mi puoi mandare tante di quelle parolacce eccetera però a prescindere da questo non è diciamo questo il fatto di quello che mi è successo ma è il semplice fatto che sono stata diciamo mi hanno rubato i soldi che io avevo vinto che sono stati 10 euro dei grattevinci che io avevo vinto allora ok che diciamo che un po' è colpa mia perché non dovevo farlo però io a quel punto non avevo pensato che si poteva arrivare a questo punto se vi ricordate io quando faccio il video di grattevinci prima di fare il video io gratto sempre sotto dove c'è il codice del bigliettino per vedere se io ho vinto o perso perché così almeno io mettevo separavo i biglietti quelli perdenti e quelli vincenti e poi scrivevo sotto il titolo perché io di solito faccio due video al mese dei grattevinci e allora tutte le volte io facevo così grattavo sotto vedevo se avevo vinto e li separavo io da scema non pensavo che la gente riuscisse a rubare i soldi dei grattevinci perché dentro di me dicevo ma cavolo come hanno fatto dato che devi avere il biglietto per prendere i soldi invece no ho scoperto che non devi avere solo il biglietto puoi benissimo vincere cioè rubare i soldi degli altri tramite i grattevinci questo è quello che è successo a me io sono andata al tabaccaio dopo due settimane sì è passato un bel po' da quando volevo andare a ritirare i soldi e sono andata al tabaccaio a un certo punto passa il biglietto la ragazza e mi fa che la macchinetta gli dà errore e allora ho pensato vabbè sarà la macchinetta che non funziona allora la ragazza mi fa guarda ci ripasso due volte ma quelle due volte che ha ripassato gli dava errore che il biglietto era già stato in poche parole preso cioè i soldi li hanno già presi e io ho detto è strano c'ho il biglietto come hanno fatto a prendermi i soldi se io ho il biglietto allora gli faccio vabbè provo da un'altra parte vediamo se mi danno i soldi e lei mi ha restituito il biglietto mi fa e forse è probabile che la macchinetta che non funziona oggi per cui vabbè ok prendo il biglietto vado da un'altra parte vado in un altro supermercato gli do il bigliettino a un'altra ragazza del tabaccaio che però diciamo che qua questa ragazza questa signora è stata veramente maleducata con me allora non c'ero solo io ma c'era anche il mio ragazzo e c'era anche mia mamma per cui eravamo tre persone proprio lì e hanno visto tutto di quello che è successo questa ragazza mi fa che il biglietto gli dava errore che i soldi sono già stati presi e io gli faccio scusi come è possibile che i soldi l'ho ritirati se il biglietto ce l'ho io e se lo sto ritirando adesso e lei mi fa il biglietto dice così se la macchinetta ti dà errore e dice che hai ritirato i soldi vuol dire che tu hai già ritirato i soldi e io gli ho detto no perché se il biglietto ce l'ho io i soldi non li ho ritirati se no non ti davo il biglietto e lei fa guarda non voglio litigare di domenica perché era una domenica io l'ho guardata come per dire ma cosa cioè volevo dirgli ma che litigare io non è che sto dicendo che voglio litigare con lei gli sto dicendo quello che cioè quello che mi è successo quello che ovviamente io devo solo ritirare i soldi i 10 euro mi fa guarda sono 5 euro per cui come per dire sono solo 5 euro e io li faccio non sono 5 euro sono 10 euro se non me le vuoi dare perché sei te che non vuoi darmele a me alla fine in poche parole io stavo litigando con questa persona qui il mio ragazzo era di fianco per cui anche lui gli ha spiegato la situazione e gli ha detto guarda il biglietto l'abbiamo appena grattato abbiamo vinto i soldi è impossibile che sono stati già presi se il biglietto c'è l'abbiamo grattato eccetera e lui e lei con un tono alto se incazzate fa guarda questa è la situazione il biglietto e i soldi sono stati presi per cui basta non è che dovete sempre io gli ho detto ma scusa ma non può avere ragione lei se il biglietto ce l'ho io com'è possibile poi abbiamo diciamo abbiamo litigato c'era tantissima gente che è entrata nel tabaccaio che ci stava guardando io mi sono veramente incazzata perché poi quando mi parte il nervoso e so che ho ragione non puoi dire che non è vero perché io ho ragione e allora mi sono incazzata con questa qua che è stata anche maleducata perché poteva dire guardi forse è la macchinetta guarda forse è successo qualcosa no mi ha detto che il biglietto io l'ho rubato che l'ho trovato per terra che non lo so l'ho trovato da qualche parte allora l'ho rubato e io ho detto ma stiamo scherzando ma secondo te io rubo i biglietti primo o tantomeno prendo i biglietti dei grattivinci così e io gli ho detto no l'ho pagato come fanno tutti l'ho preso dalla macchinetta e lei continuava a dire che soldi l'avevano già presi eccetera e io da lì mi sono incazzata e gli faccio allora il biglietto è falso ma avete dato un biglietto falso un grattivinci falso perché è impossibile ti faccio vedere i numeri i numeri sono quelli ho vinto 10 euro i tuoi soldi me li devi dare a me non me ne frega se la macchinetta segna errore in tutto questo continuava ancora a insistere a litigare con me allora dopo c'era tantissima gente che poi doveva ovviamente fare le loro cose prendere le loro cose allora gli faccio va bene non c'è problema prenderò provvedimenti ma qua di sicuro non mi vedete infatti lei c'è rimasta e fa che se i soldi sono stati presi e io continuate a ripetere i soldi non sono stati presi perché il grattivinci ce l'ho io alla fine esco dal tabaccaio vado a fare un giro vabbè gli dico tutto quello che è successo a mia mamma perché era lì e infatti lei ha visto che io avevo vinto 10 euro e anche lei si è arrabbiata e mi fa com'è possibile che non ti danno i soldi poi il bello è che la ragazza si è tenuta il biglietto e me l'ha strappato perché questo biglietto non può circolare non devi averlo te dato che la vincita è stata presa e da lì mi sono incazzata e io ho detto ma davvero ma se io ti dico così tu devi dare ragione al cliente non che mi dici le macchinette le cose tecnologiche posso sempre sbagliare prima di tutto per cui tu devi avere ragione al cliente non alla macchinetta perché poteva essere che la macchinetta non funzionava invece non è stata questo non è stata la macchinetta poi vabbè avevo le palline girate ho parlato con il mio ragazzo continuavo a parlare ero arrabbiata e lui mi fa ma non è che hai messo su youtube sul canale che hai fatto vedere il codice del biglietto eccetera eccetera e io da lì ho detto vabbè ma anche se l'ho fatto vedere è impossibile come sono riuscita a prendere i soldi allora mi ha fatto mi ha fatto tanto pensare e lì mi fa no perché possono prendere anche i soldi tramite un video e scansalizzare il codice del biglietto allora sono tornata a casa ho fatto una prova e ho provato a stoppare il mio video per vedere sull'applicazione che noi abbiamo per vedere che cosa usciva e infatti usciva che il biglietto era già stato preso da lì sono andata allora ok può essere anche una percentuale di colpa mia perché potevo anche arrivarci a dire no devi sapere che non devi mettere in mostra il codice dei grattevinci almeno che non sei andata già a ritirare i soldi io di solito facevo così ritiravo prima i soldi e poi pubblicavo il video invece quella volta lì non c'avevo voglia di ritirare subito i soldi allora ho aspettato ho pubblicato il video senza pensarci e loro ho detto vabbè ma come cavolo fanno c'è lo stesso come fai a prendere lo stesso i soldi da un bigliettino online e lui mi aveva detto con l'applicazione riesce a farlo io ero cioè non sapevo più cosa fare cosa dire perché cavolo ma non è il fatto di 10 euro perché vabbè se sono stati di più è ancora ancora 10 euro dico vabbè ok chi se ne frega però ancora non riesco a capire come hanno fatto le persone anzi la persona che ha visto quel video e che mi ha rubato i 10 euro no per giustamente fare questo questa cosa qua allora sinceramente sono rimasta proprio di merda per il semplice fatto tu mi vai a rubare solo 10 euro ma davvero se sono stati 5 se sono stati se per caso è stato un euro cosa facevi rubavi anche un euro rubavi anche 5 euro che vergogna cioè se fossi stata io mi vergognavo a rubare i 10 euro alla persona che non conosco primo secondo non so perché arrivare a questo punto solo per rubare pochi soldi terzo non me proprio non me l'aspettavo che mi succedeva questa cosa qua per cui io voglio dire a chi fa questi video di stare attenti a mostrare il codice del biglietto perché io ho visto una persona che io seguo che anche lei fa i grattevinci anche lei ha grattato il sotto il codice però credo che lei mi sembra che lei prima di pubblicare il video è andata a prendere i soldi invece nel mio caso io ho fatto l'incontrario però io vi dico solo lo stesso di stare attenti e di non fare lo stesso sbaglio che ho fatto io di mostrare il codice a barre e di rubare i soldi anche se sono stati 10 euro 5 euro 1 euro o vabbè un conto se sono stati di più ok però non lo so cioè che schifo che schifo rubare solo 10 euro una persona ma perché ma c'è ma davvero boh io questa cosa non non ho non ho proprio parole allora prima di tutto vi dico solo che io continuerò sempre a fare questi video non mi fermo per cui anche se mi scrivete cattiveri anche se mi scrivete commenti brutti anche se mi rubate i soldi a me non me ne frega niente niente io mi diverto mi diverto a fare questi video mi diverto a pubblicarli perché le persone sono gelose perché vedo certi commenti che in me mi fanno ridere e mi fanno pena mi fa pena leggere questi commenti perché la gente è gelosa invidiosa non lo so forse perché non hanno il coraggio di pubblicare i video non hanno il coraggio di stare su youtube avere un canale e allora giustamente le persone sono invidiose gelose perché io pubblico i video dei grattivinci eccetera cioè io dico queste cose ma perché alla fine solo i grattivinci io ricevo commenti brutti invece su altre cose sui vlog sui video normali che faccio sulle recensioni non ho mai ricevuto un commento brutto mai mai non ho mai ricevuto commenti così brutti offensivi che dicono anche delle parolacce cioè di tutto e di più tantomeno questa cosa è la prima volta che mi succede è la prima volta che mi prendono i soldi e mi è successo solo questa volta ovviamente non capiterà più perché d'oggi in poi quando inizierò il prossimo video che farò dei grattivinci non mostrerò ovviamente il codice oppure se lo mostro vado prima a ritirare i soldi così almeno sto più attenta perché adesso sono dieci ma se sono di più ovviamente cioè vabbè a prescindere che ho ricevuto anche dei commenti che ho scritto e se vinci tanto adesso mi ricordo cosa c'era scritto però sul fatto della vincita che poi io poi scompaio no perché io non è che anche se vengo un milione di euro non è che dico ah non sto più su youtube ma che cavolo vuol dire cioè non vuol dire niente a me non me ne frega niente dei soldi perché io non sono fatta così cioè io a me piace divertirmi fare i video e basta per cui a prescindere che poi se vincevo diecimila euro secondo voi andavo a dirlo su youtube o tantomeno facevo un video con scritto ho vinto diecimila euro ma anche se ho vinto diecimila euro non è che andavo a fare il video spiaccicato e dico ah però ho vinto diecimila euro e adesso cioè sì posso dirlo ma non vi dico se l'ho vinto e grattevinci se lo cioè anche perché sono soldi molti cioè sono tanti soldi per cui cioè non non arrivo a questo punto ma tantomeno rubare dei soldi che non sono cioè non sono neanche venti euro che cosa sono dieci euro che tu rubi dieci euro a una persona che neanche conosci boh io non riesco a capire sta cosa non lo so ovviamente ho ricevuto un commento dove dove diceva appunto probabilmente è stata questa persona perché il suo commento con i soldi che mi hanno rubato secondo me è questa persona che c'entra ovviamente io non sono una che fa denunce almeno che è una cosa grave 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 allora sì però io potevo anche denunciare questa cosa e in più il commento che mi è stato scritto quando poi mi sono cioè proprio quando mi hanno preso i soldi e questo commento c'era proprio scritto i soldi non adesso mi ricordo i soldi non saranno tuoi perché tu non li hai vinti eccetera eccetera adesso non mi ricordo bene il messaggio ma tanto ve lo farò leggere nel prossimo video insieme a tutti i commenti brutti e offensivi tanto meno peggio da denuncia che ve le farò vedere in un prossimo video e poi le commenteremo insieme prometto che tutti questi commenti brutti non hanno una foto profilo c'è una foto sul canale non hanno un nome per cui c'è c'è scritto solo utente numero 1 2 3 4 per cui tutti questi commenti che ho ricevuto sono fake di sicuro sono persone sono persone con un'età secondo me meno di 18 anni ma proprio anche ragazzini l'unica persona che aveva una foto di un signore vecchio era solo un commento di una foto e basta che sinceramente dovrebbero vergognarsi anzi dovete vergognarvi a scrivere quelle cose o tantomeno a scrivere un commento di una persona solo perché la vostra vita fa schifo e brutta allora dovete sfogarvi con le persone che fanno i video su youtube perché pensate che quelli che fanno video su youtube la vita è perfetta ma non è così perché è normale che uno vi mostra la vita perfetta sul canale su instagram sui social ma fuori dai social la vita non è perfetta per cui io non so cosa cosa pensa la gente e perché devono scrivere tutte queste cose cattive non lo so comunque io volevo fare questo video per avvisare e per dirvi che io non mi arrendo potete fare quello che volete io non mi arrendo io farò sempre questi video e continuerò a farli per cui a me viene solo da da ridere anche se non ho 10 euro per prendere i grattevinci a me non me ne frega niente perché tanto i soldi ce li ho li posso comprare per cui non mi interessa ma ricordatevi che io non mollo e non mi fermo per cui io vado avanti sempre a fare questi video detto questo io vi saluto noi ci vediamo al prossimo video ovviamente dei grattevinci che non so più o meno quando il metterò e e dico solo una cosa ultima cosa per finire per chiudere questo video chi mi ha preso i 10 euro si deve vergognare perché può essere una persona grande può essere uno della mia età può essere uno di 18 anni non mi interessa però se guardi questo video che pensi che mi hai fatto un torto oppure tanto meno ci godi per avermi preso i soldi a me proprio me ne sbatto perché sono solo 10 euro e cioè a me viene da ridere per cui vergognati per quello che hai fatto sinceramente dico solo questo io spero che che queste cose non succedano più ma sarà difficile perché c'è gente proprio puntini puntini e anche maleducati molti maleducati tutto qua detto questo ci vediamo al prossimo video grazie per chi ha guardato fino in fondo questo video e per chi mi capisce e ovviamente per chi mi segue veramente e non per chi non mi segue al mio canale non è iscritto al mio canale scrivi commenti brutti che io mi cancello dal tuo canale ma perché non ti sei mai iscritto al mio canale e mi mandi un messaggio brutto vada via al chap vabbè detto questo noi ci vediamo al prossimo video con un video bomba dei grattivinci altro che ciao ciao